Allora zi, c'ho due motorini della stessa cilindrata, uno 125 e l'altro 125, fanno una gara e percorrono la stessa strada, uno ci mette 90 minuti e uno un'ora e mezza, perché? 2 125 Tutti uguali della stessa cilindrata, uno ci mette 90 minuti e uno un'ora e mezza, perché? 2 125 Ma che tu hai fatto sempre 125? Della stessa cilindrata Aveva giocato le motociclette No, uguali sono, tutti e due motociclette Aveva buccato Uno ci mette 90 minuti e uno un'ora e mezza, perché? Perché zi, della stessa cilindrata sono Ma che ti chiede la cavasaca? Uguali 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 Tu, ma te sei cilindrata Ma un marito è la mascherata Uguali Uguali Uguali, ma un marito è la mascherata Uguali, ma un marito è la mascherata Uguali E poi da solo che la portai diverso Ma c'è una curva Rizzolini Rizzolini Uguali Uno ci mette 90 minuti e uno un'ora e mezza, zia Bruciate le mani nel pensino Che cazzo ne sei, ziii? Oia Ma tu, ma... Ma che ne hai la porta? Come che ne hai la porta? Che ne c'è di su? Che ne c'è di su? Un'ora e mezza Ah, uno è la persona e l'altra è la persona Nooo, due Una moto è la persona e l'altra è la persona Uguali, hanno lo stesso peso Ma anche se fosse re Però non mi dici che ti piacerebbe più buoni Ma si è portato meglio, lui? Ma si è portato meglio E rettolini però, capisci? Rizzolini 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 Uno ci mette 90 minuti Un'ora e mezza Hai capito? Hai capito? Hai capito? Hai capito? Hai capito? 90 minuti A quanto equivale? A quanto equivale? 90 minuti Ma a quanto equivale che è? 90 minuti E quello non è mezzo Ah beh, 30, 60, 90 Non è mezza Non è mezza Non è mezza